Musica Hello guys, io sono Shane e benvenuti a un nuovo episodio di Suicide Blades numero 2 Stavolta abbiamo la squadra al completo, quasi Vediamo la squadra al completo, guardiamo la squadra al completo Sì, è bravo, guarda Dai basta, 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 poverino Che si cura pure, guardo un HP Iniziamo che è meglio Sì esatto, io parerò più forte perchè nelle parti precedenti non mi sono sentito completamente quindi sbrederò come pochi Che senso sta portata? Ok, questo qua è stata una bruttissima scena Cosa, cos'hai visto? C'è, mi rivolto in mezzo, gli sparo la testa, la testa esplode in un momento di fraps tipo un attimo si frizza Vedi le cervelle che mi vuole una dosso Ah, qua ragazzi di qua Mi fido di te Ecco, ecco questa portacola MotoSega Ok, io non entro Dai, sei di tutti Sei anche la donna Quindi Ok mi prendo la distruzione Effettivamente ragione Cis fabuloso Cazzo La mucca è arrivata la mucca Raga mi sta laggando Siamo in due Nessuno ha perdere, si ricorda che il Il comitare, 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 il comitare. Si è Eh, sai com'è solo l'host Ah, minchia, ora io non sto laggando Ma tu ci non dovrai in giro, non? Ma io non sto laggando per niente Ma neanche io Ma neanche io Mi ha detto Mi ha detto averlo finire in galera Perché siamo in una galera Effettivamente è vero Cazzo, ma perché cazzo non mi va passando? Oh, ma dove che dobbiamo andare? Mi so perso Salve, tutti e benvenuti in un nuovo episodio del telefilm Prison Break Io sono andato a farmi i che cazzi miei da solo perché sono altrimenti pro che sono finito di fare Vinga, ma tu sei quello che hai si fai cazzi suoi, ma dove cazzo sei? Sono qua, ho preso anche Ho preso pillule e ascia Dobbiamo fare il giro, mi seguite? Seguitemi Ok Fuck Non sarà facile Ma si può fare Ma si può fare I'm fabulous Benvenuti Lo cazzo Lo cazzo Lo cazzo Lo cazzo Grazie Grazie Ma va Qualcun altro Qualcun altro Qualcun altro Ma si dai forse che mi sto divertendo un casino con questa mappa Ma va In questo caso Si è bloccato due secondi Mi hanno appena sporato dosso Eccolo Benamela Benamela Vai O perché c'è una smuola No Aspettato un attimo Ti sei bloccato completamente nel porteto Mamma mia via scopo dobbiamo staccare l'allarme e sarebbe anche ora ti prego sei chiuso hai tutto il tempo esatto però noi continuiamo tutto di voi il grande mercato di utorrent grande nemmeno ecco perchè passare in quel film no vabbè può essere forse lo stesso skype a pierre no skype non mi sta facendo la mia niente non mi sta facendo la mia niente cosa strane cose strane accadono come si chiama spettano le del misoglio vuol dire una cosa un mostro di rialia ma tutto guarda ok non vedo una miglia eh siamo in due non mi ricordo come si chiama il mostro grassone con un braccio a fuori charger e questo non erano charger ma è corti che quando carica fa muuuu si ok io mi butto in questo buco andiamo giù forse non dobbiamo andare giù dobbiamo andare di qua arrivo c'è una spitta arrivo eccomi salve a tutti io sono il presidente e qui non 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 sono quel credito di coccino no ciao per uno fuori eccolo non 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 è la bestia ma ma certo ma pensi che sia insieme prodotti non non vi ho capo su tv non 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 appena si muova caricare o eccolo ho almeno stendaco ordine via museo aspetta favore scuola il cavalli vuovere coda inf z cercate anche calco a secondi incazzare benedetta luci uscite subito fuori e' morta in amassiamo di domani notare che la wich c'è ringraziato per averci salvato il culo cazzo esplodo il bambino no era un altro getto mi sa non toccare le macchine e' bello che quando la wich si mette in piedi cominciasse a prendersi tutti i più mi ricordato di montare scarface si è che è che ci sarà il mio primo valutato anche a ricchietti il suo buon punto salutato il mio amico sossa bastardi carlo per loro io ho pure visto lo zombie scomparire dal nulla e' il commento di rachel what the fuck he's doing che ci stava tutto e' vero vero manomare che sono io no credo che non ci siano i figli elettrici che se lo troppo ci sia ancora un tank dove è il disco che diciamo che un po' preoccupando la ronda è abbastanza allora c'è fuoco una patente ma io sono più forte della morte percorso la scopo san mezzo mi sto a legge a la 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 cdc ho preso ho colpito paolo non si sta capando niente se non sa che c'è un kit medico 4 che lo vuole si staicero ok nella cura me lo prego io e prendi dalla tua parte di poterci la parola che accettiamoci nel buco attento dobbiamo aspettare prima del dare un un posto prima che ci troviamo ho fatto davanti di brutto così pericolo ma non c'è non lo so a me piace andare alla cazzo scadone morì poi tra qualche sfondo occhi esisti ma vaffanculo si ci ho pensato io che ho preso il coso laser ma vaffanculo sacchio no no ok e lo c del posto ma papua madre la grandissima rio 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 io me ne frego sulle doppie pisto attento c'è un rio la cosa è una metro di volo un'altra dovella un metro un'aspita rio 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 cazzo che fa sto rumore andiamo a la bannone degli uomini e cresciuto di nuovo ieri rio mamma mia in quella della donna mm io provo le porte due peta io non lo so rio oh cazzo ok non c'è di nuovo rio 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 Allora, la scena è stata veramente pessima, vedo la porta che si rompe, sparo un colpo così per bellezza, appare un coso che mi salta istantaneamente addosso. È quel urlo, è quel urlo, molto femminile. Sì, perché non me l'aspettavo. Forse è un vaffanculo. Sguardato. Vabbè, non mi fa entrare, come? Aspettate ragazzi, metto muncini in cinque. Ok, non furisco, non ho la pesta. Oh, coce, che cazzo vuoi, ho molto buona vista. Sì, non ho mai mai. Sì, non ho mai mai. Cosa, non ho mai mai mai. Sì, non ho mai mai mai. Ok, ragazzi, se volete faccio un buco, non ho mai mai mai. Allora, allora... Aspettate, io ritorno, certo. Ti prego, pap, che ne ho mai mai mai. Ahhhh... Poi, vado. Quando c... cos'è? Impossibile dover punto d'ingresso, ribu... Un... Registere interface... Che cos'è? Sì, che... Che problemi hai? Non lo so, mi cresce di due secondi le porti d'2. Prova dentro le porti d'2, beta e non ci siete voi. Beh, non hai le... ma... Eh, guarda, non è che sbagliato. 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 Forse capisco perché cazzo... Parla prima di lui. No, 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 vabbè, parla io ho finito ora ora. No, 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 no... No, 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 no... Non è che sbagliato. FSA isogliata. Poiché si vedevi voi, ok? Perché mi prende coach. Perché... E' lui, oso, taglini. Il cacchio di medibi. ii ma io la sto dicendo la pari perché non ho letto per due due belle inizio provano perché poi per il sbaglio per il mezzo per te non mi ricordo perfetto si è più bella mettono le specie prima ecco esatto valla o quello che mi ha dato che ce l'avete uno dei voti ok foto. un'altra c'è anche a livello del badaverano l'uso oltre a ragazzi qua ci ho provato ad andarci in single player ma sono morto ok allora siamo morti tutti quanti script gravity fa così fuocci no cosa stavo cadendo comunque non lo sapevo ci voleva tanto se cadevo sparavamo fino alla morte a shen no ma se mi sento ai scello sta morendo comunque c'è un'altra cosa è che tu sei medico ma piccola l'avamo visto carabinieri roma il primo che fa tanta e tra l'entrata e tra l'entrata forse forza raga potete andare a mangiare a mangiare il progetto aiutare venga troppo tardi e che è lasciato di nuovo non ci posso credere neanche la fine del gioco mi fa arrivare vabbè lasciamo fuori il fatto di ok devo capire che cos'è il problema l'italia è anche la stagione ce l'abbiamo fatta quindi ragazzi se vi è piaciuto lasciate un mi piace commentare scrivetevi che in tutta strana e c'è l'età mi è elimino i contenuti locali delle forte due beta così non mi rompe e ci vediamo nel prossimo video bye bye ciao 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 ciao